E' il gioco, pensate, a una finale del campionato del mondo. Anzioni! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa viene in tiro! E' un po' di schiena! E' scritto un copione che è una favola, una bomba. Entri nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. E' bellissimo fare gli spettatori, eh? Appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Non mi lasciate solo questo cuore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! E non sei solo. Forse c'è un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Ad il nostro canale Rom Anders l'ha avversato prima. Eci alla prossima! Grazie a tutti.